Ecco, vedete qua? È pieno di portierate. Ci sono delle crepe. È andata via anche qua la vernice. Ciao ragazzi, benvenuti al canale. Allora, oggi siamo arrivati da Gian Maria a consegnargli la Jaguar perché ha due o tre lavoretti da fare. Ve li faccio vedere. Non sono delle cose gravi, sono delle cose sistemabilissime, però prima di venderla la voglio avere perfetta. Vi faccio vedere. Ecco, vedete qua? Parauti posteriore è andata via la vernice, ma anche dall'altra parte. Vi faccio vedere. Ecco, a macchina bagnata non so se si capisce bene perché si fa più fatica, però in questo punto qui è andata via anche qua la vernice. Poi c'è da lavorare di carrozzeria in questo angolo qua. Ecco, in questo angolo qua ci sono delle crepe perché probabilmente chi ce l'aveva prima di me si è appoggiato col paraurti e si è crepata la vernice in questo punto. Poi Qua invece mi sono appoggiato io. Succede anche con i sensori del parcheggio, capita. E quindi ci sono due punti dove è venuta via la vernice. Quindi mi diceva già Maria giustamente per fare un lavoro fatto bene, visto che in più punti nel paraurti ci sono da fare dei ritocchi, si fa prima rifarlo tutto che viene un lavoro molto più omogeneo e meglio fatto. E ci credo. E quindi paraurti posteriore da rifare completamente. Poi Sì, mi rendo conto che vedere la macchina bagnata non dà l'idea delle cose che ci sono da fare, però fidatevi, tutta la portiera sulla linea qua di metà è tutta piena di piccole portierate. Ce ne sono veramente tante e c'è anche qualche rigata. Quindi si rifà la portiera di destra. Ecco, vedete qua. Adesso ho asciugato la parte per farvela vedere meglio. È pieno di portierate. Che è veramente un peccato su una macchina come questa. Ecco, e poi qua c'è questo saltino, lo vedete? Qua, in questo punto, è proprio rotto un dentello qua e quindi bisogna intervenire in quest'angolo qua per allineare bene il tutto. Quindi sostanzialmente ci sono tre parti da riverniciare, paraurti posteriore e portiera di destra e passaruota anteriore e sinistra. Già che ci siamo, gli ho chiesto la cortesia se mi cambia anche la pila del telecomando, perché non so se avete visto in tutti i video che c'è sempre l'avviso che ha la batteria scarica, il telecomando e quindi me lo cambia. Vabbè, quella è una roba che potevo fare anch'io, ma già che ci sono che glielano dentro, glielo faccio fare a lui. Salutiamo la Jaguar che la vediamo l'anno prossimo, perché qui tra una festa e l'altra, giustamente, i giorni lavorativi sono pochi. Gli faccio fare le cose con calma, tanto qua mi fido che è in buone mani e la ritiriamo a gennaio. Eh no, io pensavo di aver detto tutto e invece appena sono arrivato a casa mi ha chiamato Gian Maria e mi ha detto guarda che qua ci sono ancora un paio di cose da sistemare. E allora gli ho detto cosa sono e mi ha detto vieni qui che così te le faccio vedere e le vediamo insieme. Quindi ho preso e sono ritornato da Gian Maria. Gian ma vado a vedere la Jaguar eh? Ok, vediamo un po', vediamo un po' qua come sono messi i fari. Ma sai che non mi ero accorto no? Eh già, eh vedete? Non è sporco, cioè sì è anche sporco, però hanno degli aloni, ecco. E allora qua lui fa una lavorazione per intenderci, vi faccio vedere, tipo questa, eccolo qua. Non la fa col dentifricio come ho fatto io in un video. Lui la lucida tutta e poi gli ridà il trasparente, che è il lavoro giusto da fare. Ovviamente maschera tutto intorno così non si rovina la carrozzeria. E quindi rifacciamo tutti e due i fari perché non puoi farne solo uno che poi risulta più lucido dell'altro. Va fatta la coppia. Poi mi diceva qua il faro posteriore, eh già, eccola qua la condensa. Ma sai che non l'avevo mai vista? Non mi ero mai accorto che avevo la condensa sul mio faro. Ma poverina, sta sempre nel box al calduccio lei, non è abituata a prendere la pioggia. Che poi gli entra tutta dentro. Vabbè qua ci pensa lui, eh. Vabbè. E questo è davvero tutto. Adesso la macchina ha questi lavoretti da fare. La rivedremo tra qualche settimana. Per oggi qui dal Conju Garage è tutto ragazzi. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!